Ok, prego. Buona serata a tutti, siamo qui con Alice Benessia, un nuovo appuntamento di Abitare il Selvatico, scusate, sì, della serie di Verso un'abbondanza progale, esperimenti in corso con Gaia e l'umanità. Oggi Alice Benessia ci parlerà di Abitare il Selvatico, pratiche di cura e convivenza interspecifica. Buon ascolto a tutti. Allora, buonasera a tutti, grazie di questo invito. Spero che non ci siano interruzioni perché l'elettricità è andata e venuta fino a pochi minuti fa. Sono qui a raccontarvi l'invito di Elena, la mia esperienza a pian piccolo selvatico, che è il luogo in cui abito insieme ad altre creature ormai da qualche anno. In questo luogo vivo e convivo con, come dicevo, creature domestiche e selvatiche. Vi racconto un po' di storia di questo luogo, dell'attività che facciamo e poi mi soffermo un pochino più sul tema della conversazione di oggi, dopo avervi dato un contesto generale, per raccontarvi un po' qual è questa mia pratica e su cosa si basa, su cosa si fonda, eccetera. Questo è pian piccolo come l'ho incontrata. Il pian piccolo selvatico è il toponimo di questo luogo. È il toponimo antecedente a questo piccolo borgo che vedete. Il borgo risale al 1811, il toponimo l'abbiamo trovato su una mappa del Metà Settecento, come Champicol, piccolo piano. Vedete questo borgo si affaccia su questa vallata, che ha questo grande prato semipianeggiante, che è un'anomalia di questa zona, perché ci troviamo in Alta Langa, che ha un paesaggio, la cifra del paesaggio è il terrazzamento. Evidentemente quindi questa particolarità ha dato il nome. No, io voglio sentire. Forse abbiamo qualcuno con il microfono acceso a questo luogo. Questo è come l'ho trovata. Aspetta, devo abituarmi alla slide. Abbiamo iniziato a... forse qualcuno deve spegnere un microfono. Abbiamo fatto un... scusami. Dario forse deve spegnere. Ok. Abbiamo fatto un grande lavoro di ristrutturazione. Io l'ho trovata e l'ho abitata per... l'ho incontrata nel 2011. Ho iniziato a viverci nel 2013. Tra il 2014 e il 2016 c'è stato questo grande lavoro di trasformazione del borgo. Questa è una fase intermedia. Vedete che c'erano già alcuni asinelli, alcuni animali. Questo è più come si presenta oggi, con questa costruzione che vedete sulla sinistra, che è un ricovero per animali, fienile, stalla fienile. Restaura anche... insomma, segue dei criteri anche di efficienza energetica, uso delle risorse innovabili, eccetera. Non mi soffermo più di tanto, ma era solo per darvi un po' un contesto di dove siamo. Questa è un'altra veduta. L'altra particolarità di questo luogo è il selvatico, questo appellativo che è rimasto nel toponimo, che viene dal fatto che questa cascina è un po' più in alto delle altre, a 750 metri, quasi sul limitare del crinale tra Val Bormi e la Valluzione, si affaccia sulla Valluzione, siamo appunto in sud Piemonte, ed è orientata a nord-est. Vedete questa facciata principale in ombra, le cascine tradizionalmente sono orientate a sud-ovest, e questo è un orientamento che è quello che ricorda di più da cosa mi raccontavano amici, esperti di orientamenti, eccetera. L'orientamento tipico dei monasteri, più che delle cascine. Questo è un po' un'idea del paesaggio in cui ci troviamo, è un luogo isolato in cui non si vedono, non sono in vista altre case e altre strade, questo lo dico perché permette questi esperimenti di convivenza in libertà che sto facendo con questi altri animali. Questa è un'altra veduta del terreno, il terreno intorno è più o meno 22 ettari, come dette per lo più pascolo e bosco, è una zona che è stata risparmiata dall'agricoltura intensiva del vino perché è troppo in alto, adesso con i cambiamenti climatici c'è un certo interesse a salire anche col vino, ed è interessata però da un avanzare della monocoltura della nocciola intensiva. Questo per darvi un'idea delle stagioni, questo è un plenilugno estivo, e questa è una serata invernale. Questo isolamento, la differenza tra le stagioni, almeno fino adesso, è stata abbastanza... Questo non è quest'inverno, purtroppo è quello prima. Questo è l'inizio primavera. Abbiamo anche piccoli esperimenti in Pian Picollo, è una fondazione da poco tempo, fondazione che si prepara a diventare ente di ricerca, è un ente del terzo settore, ed è anche un'azienda agricola. Travedete qui sulla sinistra un piccolo campo preparato per essere seminato grano, c'è un piccolo fruttetto, vedete gli alberelli giovani giovani, circondati dagli alberi più anziani, sono piccoli esperimenti di agroecologia, di policoltura, diciamo, agricoltura rigenerativa, secondo di come la vogliamo chiamare. Questa è una veduta notturna. E qui vedete rapidamente invece all'interno di questo piccolo borgo, c'è questa corte interna, intima, piccina, che raccoglie il sole del sud-ovest. Vedete che c'era questo grande fienile, adesso questo è prima dei lavori di ristrutturazione, abbiamo già iniziato a usarla per fare delle attività, questo era uno spettacolo teatrale. Questo è il grande cantiere, è stata una trasformazione abbastanza radicale, che ha mantenuto la struttura. Lo scheletro, diciamo, e il resto è stato trasformato. Durante il cantiere, durante questa trasformazione, e questo vi dà un'idea della fondazione di questo piccolo centro di ricerca, sono stati invitati, ho invitato una serie di, accanto al cantiere materiali, ho invitato una serie di ricercatori e artisti a lavorare sull'idea di trasformazione, proprio perché comunque è una grande responsabilità mettere mano a un luogo che aveva tutta una sua storia. Questi amici, alla fine sono diventati anche stretti amici, artisti di varia natura, performativi, artisti visivi, artisti del suono, un ricercatore che si occupa di piante, un videomaker. Sono stati durante il cantiere a lavorare insieme a me, ospitando dei laboratori, dei workshop, e ospitando anche il loro lavoro in itinere, che è finito col finire delle, queste sono alcune immagini in laboratorio di fotografia. Questo è un piccolo esperimento di Forest Garden, di Orto Bosco, fatto intorno al cantiere. Il cantiere rende bene accessibile il borgo, questo è un piccolo spettacolo teatrale. Abbiamo fatto un'apertura dei cantieri durante i lavori per mostrare questi work in progress degli artisti. Questa è una performance polifonica nei boschi. Registrazione del paesaggio sonoro. Questa è la costruzione di un'installazione permanente, che oggi è uno dei perni importanti di questo luogo, che si chiama Vital Badecca, realizzata da un duo di artisti, che poi sono diventati fondatori. Tutto questo per raccontarvi il fatto che questo luogo ha poggia, diciamo, su questo gruppo di artisti, che poi l'hanno fondato insieme a me. Questo è un laboratorio di autocostruzione durante il cantiere. Questa è la corte, invece come si presenta quasi, diciamo, come si fa. Adesso è un po' più abitata da piante, ma questa è come si presenta alla fine dei lavori. Qui sono alcuni scorci dei locali interni. C'è anche un locale, questo, di cucina e trasformazione dei prodotti. Alcuni eventi. Questa è una sala di lavoro interna dedicata agli artisti e ricercatori. Questa è sempre la stessa sala allestita. C'è un forno anche dedicato alla preparazione del pane, ma anche in questo caso installazioni video. e nel 2017, finiti i lavori, abbiamo iniziato, aperto un programma di residenze di ricerca, che è ancora in corso. Abbiamo iniziato a invitare artisti e ricercatori per la permanenza di un anno intero. Parlo di questo, perché questa convivenza interspecifica, a cui arrivo tra poco, è questo processo di cura anche. Innanzitutto rivolto, non innanzitutto, ma insomma anche rivolto naturalmente agli umani. E c'è questa idea di offrire spazio e tempo ai ricercatori che vengono in residenza a Pianpicollo per andare al fondo delle proprie domande e per riflettere sulla possibilità che ha l'essere umano di entrare in una relazione per l'appunto di cura e di trasformazione con ciò che lo circonda. Quindi queste residenze durano un anno intero, gli artisti vanno e vengono, diventano parte di una comunità, offrono il loro lavoro, la loro ricerca. In questo caso è un lavoratore per i bambini della scuola materna. Questa è un'installazione di Maurizio Cilli, il primo artista invitato. Questa è un'opera permanente. Gli artisti non hanno dovere di produzione, però diciamo alla fine, scientificamente, poi lasciano qualcosa. Questa è questa scultura, questa grande pietra ambientata nel paesaggio. Questo è un altro artista invitato nell'anno successivo, al 2018, Attila Faravelli, in laboratorio con il Politecnico, per dirvi che questo luogo è ormai abitato da alcuni anni, è ospita umani, temporanei, che vanno e vengono, di varie età, di varie... che hanno questa caratteristica di stare qui e lavorare, fare ricerca, con un senso di ricerca aperta. Questo è un laboratorio con i bimbi di quest'artista del suono. E questo è l'ultimo, l'anno scorso, con un filosofo della biologia, Andrea Borghini e Claudio Alosi, un artista di Piacenza, che ha tessuto dei disegni coi crini di una dei cavalli che andrò a presentarvi tra poco. Ha usato questi crini per le sue opere. Adesso ti faccio ascoltare. Ed eccoci qui. Allora, insieme a me, Pian Picollo è, come vi dicevo, quindi questo luogo... Sento di nuovo un suono. Questo luogo che ospita un borgo e ospita una comunità, come vedete, questo terreno selvatico, ospita una comunità di molto grande, di creature viventi e anche non viventi, umane e non umane, per lo più selvatiche, piante, vegetali, animali, microrganismi, funghi, licheni, eccetera, eccetera. Un flusso di materia organica e inorganica in perpetuo montamento e ospita insieme a tutto questo, con il quale siamo in continua relazione, insieme a me, una piccola famiglia di animali domestici. Domestici nel senso animali tipicamente di cascina che sono maiali, cavalli, asini e galline. Un gallo. Qui vedete un piccolo maiale, è difficile da... La domanda che ogni tanto faccio quando faccio vedere questa foto è capire che animale è. Questo è un maiale domestico, che però, come vedete, ha una certa libertà di movimento, di espressione. Questi animali sono arrivati, non sono stati, diciamo, programmati, pianificati, ma sono arrivati attraverso incontri e storie particolari. I maiali sono stati proprio... Me li ha portati questo signore in macchina, ha aperto il baulo, ha detto, io non li voglio, non li tengo, non li posso tenere. Erano grandi, piccinissimi, e quindi li ho cresciuti con il biberon, eccetera, eccetera. E i cavalli vengono... Sono cavalli che sono cavalli anziani. Eccoli qua. Sono tre cavalli anziani che hanno una vita alle spalle dedicata e funzionale agli esseri umani. Uno era un cavallo che lavorava bianchino, veterano, 26 anni, che lavorava tutta la vita in un maneggio, faceva gare di salto con i bimbi, un pony da salto. Il fulvo, la creatura fulva, è un cavallo, ex cavallo da corsa, che ha... faceva queste gare di resistenza, velocità, e ha avuto un fenomeno che ha un suo nome tecnico che adesso io non mi ricordo, ma che è una sostanzialmente una paralisi di tutti i muscoli da acido lattico, da sovraccarico, e con delle lacerazioni, quindi non ha più potuto gareggiare, ed è finito, diciamo, una cascina abbandonata a se stesso. La grande creatura nera è una cavalla frisona, razza frisona, che sono questi cavalli da cinema, da carrozza, da... Lei non poteva più essere tenuta dalla sua proprietaria, perché ha avuto una malattia degenerativa, e quindi questa cavalla non si sapeva dove metterla, per svariati motivi, non vi sto a fare tutte le storie, sono arrivate più in piccolo. Poi ci sono queste due asinelle, e una che aveva subito dei maltrattamenti, che anche lei è arrivata per vie traverse, con la sua piccola figlia, che adesso è cresciuta, che invece è l'unica, diciamo, che non ha avuto nessuna esperienza negativa. C'è una serie di galline che sono un po' più temporanee, contingenti a me, perché sono prede più facili. I predatori, vivendo in libertà, ogni tanto qualcuna sempre troppo se ne va, e ne arriva qualcun'altra, e che arrivano da un programma di recupero delle razze antiche, di due razze antiche piemontesi dell'Università di Torino, che sono la bionda piemontese e la bianca di Saluccio, sono sostanzialmente degli scarti di questo progetto di miglioramento, di recupero delle razze. Io questo amico e collega che se ne occupa, che ogni tanto ha dei resti, che sono quelli che non sono destinati a andare avanti. E quindi Pianpicollo accoglie queste creature. Come vedete, la caratteristica principale che queste creature vivono in libertà, al di là di questa cura quotidiana, diciamo così, nei bisogni primari, comunque sono creature programmate nel comportamento, nell'espressione genica per essere funzionali agli esseri umani. In questo caso c'è questo esperimento, un terreno un po' incognito di sospensione di questa funzione. Questi animali non hanno una funzione più, non vengono mangiati, non vengono messi al lavoro e io faccio questo esperimento di cambiamento di postura, diciamo così, in cui mi rendo disponibile e li osservo nella loro espressione. Diciamo, in questa loro libertà succede che naturalmente loro riescono, hanno la possibilità di esprimersi nella loro individualità, nella loro scelta, nella loro... Diciamo che ognuno fa la sua giornata e ci incrociamo in appuntamenti più o meno regolari e io ho questo privilegio anche di poter convivere proprio questo esperimento di convivenza. Torno un attimo indietro perché qui avete visto, ho messo un po' di appunti su questa modalità in cui io mi relaziono con queste creature, poi ve le farò vedere in altre immagini. sostanzialmente è appunto questo stare accanto a loro e fare esperienza di queste forme di vita, proprio una vita che si esprime in forme diverse dalla mia, nello stare così vicino a queste forme di vita altra, ma accessibili a me perché è quotidiano il nostro rapporto, in qualche modo il mio corpo animale, il mio essere animale si risveglia. c'è questa sensazione radicale di cambio di postura dal senso del controllo del dominio dell'umano che tiene questi animali tipicamente per farne un uso specifico e invece questo senso di mettersi a servizio. Vedete un esperimento di cura trasformazione reciproca perché come vi potete immaginare in questo mettersi a servizio in realtà torna indietro moltissima energia, energia, questa cura reciproca, ecco, non fa bene solo, è una pratica estremamente relazionale e è basata su un grado di improvvisazione abbastanza elevato perché siamo tutti immersi, io e questa piccola famiglia, nella complessità del luogo in cui ci troviamo, la complessità che è data dal resto del contesto, umano e non umano, quindi il selvatico, quindi anche i predatori, lo scatenarsi degli elementi, tutti quegli elementi di contingenza che normalmente ci sono e naturalmente gli umani anche non mancano, tipicamente una delle difficoltà di questa complessità è la caccia, la stagione della caccia perché i cacciatori possono entrare nel terreno, per legge possono entrare e cacciare nel terreno e quindi questi animali in libertà in certi momenti e in certe situazioni vanno naturalmente confinati, bisogna continuamente insomma rispondere e quindi c'è un grado di improvvisazione nell'immediato anche nella giornata, nelle singole giornate per vedere che cosa fanno e come rispondere a cosa fanno. È una pratica estetica nel senso che prevede, estetica quindi ha a che fare anche con l'arte ma in un senso originario in qualche modo risuppone un risveglio dei sensi, uno stare attenti, un prestare attenzione a quello che succede, anche le interazioni tra loro e le interazioni tra loro naturalmente e il mondo dei vegetali perché possono essere molto dannosi, molto molesti anche, no? Dei mammiferi che naturalmente pascolano, razzolano, uccelle, galline che razzolano, maiali che fanno i buchi, eccetera. Per cui bisogna anche sapere un po' continuamente rispondere alle esigenze dei vari viventi cercando, e anche le proprie, cercando di arrivare a, come dire, massimizzare la possibilità di ciascuno di esprimersi al meglio, pieno della propria esistenza. Richiede quindi una qualità di presenza abbastanza continuativa, tipicamente quando sopraggiunge la stanchezza, può essere, si possono fare degli errori, questi cavalli per esempio hanno una grandissima forza, un peso, una massa, hanno una loro storia alle spalle, qualcuno ha qualche appunto il cavallo da corsa per esempio molto reattivo, qualche problema si spaventa facilmente, quindi vi dico questo perché poco tempo fa mi è successo per dirvi cosa la mancanza di presenza può essere anche rischiosa, una serata in grande stanchezza stavo riportando perché questi animali poi di notte si ritirano ognuno nel proprio rifugio per far spazio al selvatico che tipicamente occupa il territorio e sono arrivata senza annunciare il mio arrivo alle spalle di questo cavallo silenziosa come un gatto e lui distinto ha calciato e mi ha presa. Non mi ha fatto, insomma, è andata benissimo, non ho avuto grossi, insomma, ho avuto una botta però per dire e lui non l'ha fatto assolutamente apposta, mi ha poi guardato come dire ah, eri tu, però appunto hanno una forza tale e una rapidità tale che appunto magari la mancanza di consapevolezza di presenza può essere anche rischiosa e al di là di questo naturalmente per me è una pratica diciamo anche proprio esistenziale tutto questo è intriso naturalmente di contraddizioni tipica questione non si tratta di un esercizio diciamo così che ha una sua ideologia particolare è immerso in una serie di contraddizioni diciamo così che uno ha un punto di ispirazione è una frase di un fotografo americano che dice io sono anche fotografa che dice la posizione è quella da cui tutto accade io come se metto un punto fermo un punto fisso che è la mia prospettiva il mio luogo di lavoro l'arena il teatro in cui io decido di inserirmi e dovunque mi metto mentre fisso questo punto si fissano le cosiddette condizioni del contorno potremmo chiamarle che sono l'insieme di contraddizioni in cui io scelgo di convivere quindi non si tratta di eliminarle ma di vederle e scegliere quelle piuttosto che altre c'è un elemento di fiducia che si crea naturalmente reciproco con queste creature è una definizione di fiducia che mi era piaciuta molto che mi aveva dato un ricercatore francese un filosofo francese qualche anno fa che è la possibilità di mostrarsi vulnerabili mostrare la propria vulnerabilità quando io mi fido di qualcuno mi rendo vulnerabile e qui è una sensazione che posso dire di aver provato in entrambi i sensi sia da parte mia che da parte loro tra l'altro alcuni di questi animali hanno soprattutto di nuovo i cavalli hanno delle arrivano con delle problematiche anche di salute per cui ci sono state anche delle occasioni in cui ho dovuto curarli portarli in altri luoghi per essere curati e questo senso di fiducia reciproco è molto importante nei momenti di difficoltà questo esperimento implica anche un cambiamento molto grande nel ritmo della mia vita nello stare qui è un adattamento alle stagioni molto più grande io vengo da una vita urbana questo adattarsi alle stagioni al ritmo circadiano quindi queste giornate la lunghezza delle giornate che cambiano le esigenze di questi animali delle piante anche parlo degli animali ma tutto questo si può naturalmente si potrebbe anche dire per le piante anche se l'energia più sottile è un rapporto più delicato forse quindi in qualche modo questo adattamento allo stare molto fuori molto più fuori che dentro rispetto a come vivevo prima e molto più in relazione con le stagioni e con il ritmo giorno e notte ha cambiato radicalmente il senso del corpo del lavoro anche e poi vabbè c'è questo senso questi appuntamenti ho scritto questa parola perché come se mi dicevo prima in questa libertà reciproca diciamo poi ci sono dei momenti durante il giorno in cui si creano degli appuntamenti tra me e loro anche solo appuntamenti per vedere un po' dove si trovano cosa fanno io in qualche modo sono anche un po' lì a custodire a prendermi cura della loro incolumità e quindi è come se io ho un occhio sempre un po' da qualche parte più o meno so dove si trovano e in qualche momento della giornata abbiamo degli appuntamenti in cui ci ritroviamo questi tempi in cui tutto questo esperimento accade sono tempi molto lunghi vi do un esempio tra tanti questi cavalli sono arrivati appunto dopo una vita di confinamento quindi funziona con una vita funzionale sempre abituati a qualcuno che dà delle istruzioni e degli spazi sempre chiusi e quindi per esempio c'è un tempo molto lungo che loro stanno prendendo hanno preso per abituarsi agli spazi aperti quindi per occupare un areale sentirsi fiduciosi di poter occupare degli spazi più grandi per esempio una delle cose che mi ha più emozionato ultimamente questo è l'inverno scorso è il fatto di trovarli molto più lontani del solito a pascolare placidamente addirittura nel campo di un vicino che mi ha poi dato un'autorizzazione è stato carino ci ha regalato questo prato per l'inverno perché voleva riseminarlo in primavera lui alleva mucche confina è un unico in realtà dal punto di vista ecosistemico è un unico luogo e loro che dopo in passato questi cavalli io avevo provato a forzare un po' e quindi allontanarli un po' da casa con dei recinti e loro se non vedevano la casa la stalla rompevano il filo per tornare a casa e invece quest'anno li ho trovati un giorno mi ha chiamata questo vicino e li ho trovati placidamente a pascolare in questo campo e abbiamo preso questi appuntamenti diversi in cui io andavo a recuperarli al tramonto in questa in lontananza questo pascolo quindi questi questi tempi lunghi è come se in questo loro parlo dei cavalli ma molto simile allo spazio dei maiali che si è espanso mentre loro occupano questo spazio più grande è come se dentro di me c'è una sorta di corrispondenza c'è un senso di amplimento anche di uno spazio interno che mi sento di occupare e vabbè altro punto che ho messo qui è un'idea di passare in tutto questo esperimento da un basso profilo di sostenibilità di sostenibilità di mantenere qualcosa o delle pratiche che possano sostenersi a lunga un'idea di rigenerazione quindi un esperimento attivo di rigenerazione di queste creature che ovviamente sono dal punto di vista del tutto è simbolico l'esperimento però posso dire che in questa cura trasformazione reciproca la mia salute personale anch'io convivo con una patologia classificata cronica degenerativa e sono in fase di remissione totale da quando faccio questo tipo di pratica quindi è una rigenerazione che parte dal personale naturalmente ma si estende adesso torno alle immagini questo è uno dei due maialetti altro esempio che posso così raccontarvi per passare più dalla stratta al concreto è un giorno in cui appunto è arrivato il tramonto io tipicamente li cerco se non arrivano da soli vado un po' a vedere dove sono eccetera questo era un tramonto autunnale avevo un'idea vaga di dove potevano essere perché non c'era il punto all'ora di pranzo vedevo queste pallette di grasso in lontananza allora ho seguito una pista e sono finita su un bosco una passeggiata di un quarto d'ora dove pensavo potessero essere non li ho trovati insomma ho girato un po' a un certo punto ho scovato lui che si chiama Poldo sotto una quercia a mangiare ghiande mi ha vista eravamo in prossimità della stradina che avevo preso per arrivare lì e ha capito insomma che era ora di tornare a casa però invece di mettersi ad andare verso la stradina prendeva una direzione che per me non aveva senso quindi io ho insistito un po' lui anche finché a un certo punto ho capito che lui aveva un'intenzione molto precisa e ho deciso di seguirlo qui un po' anche l'elemento di improvvisazione continua in cui io osservo un po' in modo in un altro e quindi ho deciso di cambiare ritmo invece di spingerlo con la voce col corpo ho rallentato mi sono zittita e lui è partito per i fatti suoi e ho scoperto che naturalmente era una mia presunzione pensare che lui facesse la stessa strada che facevo io per andare a casa e quindi lui si è infilato in questa pista nel bosco io ho deciso appunto l'istinto di seguirlo e ho fatto questa esperienza molto particolare anche molto bella di seguire quello che è in questa pista che sono una pista poi dei selvatici che probabilmente loro hanno ereditato molto ben battuta però totalmente invisibile nel mezzo del bosco a quel punto si sono invertiti i ruoli perché ero io essere goffa e ci ho faticato mentre lui infrangibile mi passava piccoletto tra i rami tra i rovi eccetera invece io mi dovevo strisciare e anche qui sono esperienze di questo tipo che sono per me notevoli perché un altro mi ha dato un altro senso di espansione come se improvvisamente ho avuto il privilegio di poter vedere il mondo un po' con la loro prospettiva e in qualche modo mi sono fidata di loro come loro si fidano di me questo è più da così da cartolina qui quando erano piccini scacciavano il cane entravano in casa avevano delle strategie per mandare via il cane dalla sua cuccia e quando sono appena arrivati come vi dicevano minuscolissimi questa è una amatissima gallina che è stata presa da un ora pace Isidora e anche le galline ho questa sensazione meravigliosa a un certo punto di vederle come potrebbero essere degli uccelli selvatici quindi hanno questa libertà di espressione di movimento naturalmente emergono le loro personalità specifiche eccetera il rischio e diciamo il prezzo è essere maggiormente esposti alla contingenza insomma ai predatori qui intravedete il gatto che sto spottando dopo la tempesta questa è una piccola installazione fatta da certi studenti del Politecnico in uno di questi laboratori per gli artisti che vi descrivevo qui ci sono tre cavalli questa è una visione invernale anche il fatto di poter esplorare per esempio la neve per loro inizio è stata una cosa ovviamente stranissima poi si sono abituati anche a muoversi nella neve questo è l'interno della stalla pisolino questo è un ospite temporanea a un certo punto ho avuto qui un rapporto come dire un po' illecito un privilegio di poter così convivere per brevissimo tempo con un piccolo capriolo che ha avuto bisogno di soccorso poi è stato mandato in centro recupero perché appunto rapporto illecito col selvatico è regolato ma qui abbiamo avuto questa meravigliosa esperienza di convivenza breve in cui l'ho aiutato a crescere un po' e qui c'era questo laboratorio di canto per cui io e il piccolo eravamo un po' stupiti di queste polifonie questo è sempre lui e per esempio passeggiare a un certo punto avevamo questa io avevo preso un po' a seguirmi in giro era libero di muoversi non era confinato in nessun modo però stavano entrando a casa eccetera e facevamo queste passeggiate nel bosco io il cane veniva anche lui e quindi aveva una percezione del bosco attraverso questa creatura selvatica senza straordinare beh questo è un piccolo aneddoto ma di nuovo un'osservazione che naturalmente anche tra loro interagiscono tra specie hanno delle simpatie delle antipatie si avvicinano di più per esempio il gatto e il maiale non si amano per niente e ho questa stando accanto ai vari animali questa sensazione che è come se avessero ogni animale ha una sua frequenza che ha un po' il suo modo di muoversi di esprimersi di anche vocalizzi e quindi per esempio la grazia del gatto con la virulenza del maiale hanno nulla a che fare quindi queste due frequenze come se non si incontrano misteriosamente in certo senso non misteriosamente il gatto invece il capriolo che entrambi hanno questo questo modo di essere di stare al mondo molto delicato molto anche rapido stavano stavano volentieri vicini tra loro li vedevi condividere degli spazi qui vi faccio così finisco vi faccio solo vedere piccole altre esperimenti con le piante con il resto degli ecosistemi di Pianpicollo questa è una creazione di un'area umida che abbiamo fatto per il recupero della fauna anfibia con dei fondi europei un piccolo laghetto che in questo periodo devo dire ha resistito magari alla grande siccità per esempio è ancora molto lussureggiante quella parte nell'esperimento come vedete ha funzionato abbastanza bene quindi io davanti a casa ho cominciato a trovare questi ospiti meravigliosi questo è un monitoraggio ambientale per invece per andare a vedere la presenza delle farfalle c'è una grandissima varietà di farfalle questa è l'IPLA e l'Università di Torino che hanno fatto questa misurazione adesso continuano a maniare ogni anno perché è una zona particolarmente reggiata da questo ancora diciamo questo è un esempio di prateria tipica di questi luoghi ancora con questa fioritura abbastanza appunto biodiversa che cerchiamo di rigenerare di mantenere di rigenerare una delle pratiche è il recupero della falciatura a mano adesso uno dei progetti che speriamo di poter avere finanziati prevede una creazione di questa piccola scuola di falciatura naturalmente non si può fare su tutte le superfici ma almeno su alcune che hanno delle fioriture più particolari naturalmente questo vuol dire proteggere gli impollinatori proteggere gli insetti eccetera ci sono queste fioriture di orchidee incredibili e in questo monitoraggio ambientale abbiamo trovato delle orchidee rare per cui siamo in fase di candidatura per vedere se riusciamo a diventare il sito di interesse comunitaria prevalentemente intorno a Pempicollo ma anche un po' più in là e naturalmente per esempio questa ecco questo per dirvi compromessi eccetera tutte queste creature che si aggirano l'ufolo lo mangiano eccetera bisogna ogni tanto si possono occupare quel posto dove ci sono l'archiveo ogni tanto no per cui ci sono questi che fanno da protezione diciamo che i vegetali e i mammiferi bisogna un attimo mediare ecco queste sono queste orchidee selvatiche fiordalisi questo è un gladiolo sono alcune specie che abbiamo trovato questo è un altro tipo di orchidea quindi c'è questa ricerca diciamo in corso sulla biodiversità questo è un piccolo faggio adolescente che sta in un bosco di faggi un po' più anziani e queste invece sono alcune immagini di fototrappole che abbiamo messo in giro per il terreno abbiamo un archivio molto grande adesso qui ho messo solo tre così per esempio il tasso una martola un capriolo e qui abbiamo trovato il lupo e finisco dandovi ancora un cenno quindi queste residenze d'artiste queste di cui ho parlato all'inizio questa ricerca sulla biodiversità questa ricerca diciamo molto personale anche su questa convivenza interspecifica adesso da poco ten da un anno e mezzo abbiamo introdotto la ricerca scientifica anche con un bando finanziato dal un progetto finanziato da Fondazione Cariplo in partnership col CNR adesso scusate che non riesco ad agire ok il progetto si chiama Bridges e questo per darvi un po' un'idea dal punto di vista scientifico cerchiamo di sperimentare con dei ricercatori con cui stiamo lavorando che verranno qui in residenza tra poco a fine luglio un tipo di ricerca di scienza relazionale in cui tutto questo attualmente è legato non è slegato ma strettamente collegato a tutto quello che abbiamo detto finora si passa da pensare al che cosa e tipicamente molti di voi con cui ho collaborato prima degli anni sono cose che ci siamo dette tante volte un passaggio diciamo auspicabile da solo pensare a che cosa si studia anche al come che è molto importante e al perché al per chi un passaggio da scusate fatto importante questo progetto è un progetto in cui si fa un percorso con dei ricercatori di diverse discipline e si sperimenta una relazione con il suolo con la qualità del suolo la fertilità del suolo qui a Pianpicolla quindi questa ricerca sul suolo in questa ricerca sul suolo c'è un tentativo di passaggio da modalità diciamo classica disciplinare a questa modalità che potremmo chiamare relazionale o trasdisciplinare ibrida si possono dare dei nomi diversi quindi un passaggio da una misura che cerca dei dati dei prodotti su un vero e farsa a un lavoro sulla qualità qualità dei processi come vi dicevo è tutto collegato rispetto a quello che ho detto come potete intuire tutta la pratica di convivenza di cui vi ho parlato quindi un'enfasi sulla qualità dei processi un passaggio dal controllo e la previsione tipica della ricerca scientifica classica il modello un po' così cartesiano dell'essere umano che prevede invece ha un utilizzo diverso mettere in gioco delle capacità diverse che sono appunto come dicevo prima la fiducia il senso della fiducia la fiducia anche nella propria possibilità di incontrare di andare non solo di misurare ma di andare verso una delle etimologie che mescola un po' arte e scienza è una delle etimologie della parola arte che mi ha particolarmente ispirata che è un'etimologia antecedente a quella latina che è Ar che è una radice sascrita che ha il significato di andare verso mettere in moto qualcosa andare verso qui mettiamo insieme scienze e arte e questi ricercatori lavorano anche con degli artisti quindi uno sviluppo di questa fiducia che la possibilità di rispondere anche a quello che io così vi ho raccontato un po' alleno con queste creature tutti i giorni e un'etimologia un po' un origine della parola responsabilità capacità di rispondere abilità di rispondere e poi un passaggio da un'idea di misurare appunto come vi dicevo a un'idea di andare verso un incontro con questo suolo con queste creature che abitano il suolo abbiamo già fatto degli esperimenti di scavo in cui queste persone entrano in relazione con le creature che si vedono con delicatezza e quelle che non si vedono entrare in un'idea di questa convivenza rigenerativa anche con le creature che abitano il suolo per sviluppare questa serie uno dei scopi di questo progetto è arrivare a sviluppare una serie di indicatori ibridi che non siano solo indicatori indicatori classici della proprietà del suolo ma siano indicatori relazionali e che quindi includano anche questi in qualche modo una possibilità di dare una testimonianza di questi incontri basta vi ho dato dire una panoramica rapida e molto varia di pian picollo se volete sono se avete qualche domanda qualche sono qui a disposizione cominciò io dicendoti grazie di questa meravigliosa presentazione che è stata veramente un incanto forse io più di altri conosco i luoghi e ho seguito la tua storia i tuoi percorsi e questa tua sintetica presentazione trovo veramente dico commovente nel senso che sei riuscita e stai riuscendo a mettere in pratica e realizzare questo intreccio tra la nostra personalità di singole persone il nostro desiderio di fare ricerca il nostro desiderio di stare in modo armonico in un ambiente quindi insomma ci hai dato una serie piccola rispetto a tutta la tua esperienza ma secondo me è molto molto significativa di questo modo di sì di convivere con le altre creature in modo così impegnativo è però così fascinante quindi da parte mia un grazie un abbraccio grazie a te grazie a te scusate ho perso l'ultimo pezzettino perché mi han suonato è l'ora delle domande è l'ora delle domande o dei commenti o qualunque cosa mi lascio la parola avevo sì no avevo una domanda innanzitutto grazie Alice perché è un'esperienza bellissima la cosa che volevo chiederti è rispetto alla tua esperienza da cittadina e di conoscenza anche diciamo delle relazioni tra gli animali al servizio dell'uomo quali sono le osservazioni che potete che state facendo rispetto alla differenza quando questi animali sono in diciamo in cattività o comunque devono anche servire a una certa produzione o comunque a un certo lavoro e invece una vita libera diciamo dove però interagiscono magari tra animali che non sempre si incontrano anche tra di loro e dunque la convivenza tra loro come vi accennavo è per lo più assolutamente pacifica stabiliscono appunto delle simpatie delle vicinanze anche stabiliscono sanno gli uni cosa possono avere dagli altri per esempio la protezione dei più grandi rispetto ai piccoli per esempio le galline i maiali le galline amano stare dove sono i maiali delle volte a razzolare perché intuiscono che se c'è un maiale magari la volpe non si avvicina questa è una mia osservazione però mi sembra abbastanza plausibile lo stesso accade con i cavalli delle volte li trovi un po' tutti insieme i grandi e i piccoli magari si trovano pascolare un po' tutti insieme e io ho una sensazione appunto che le prede più piccole traggono beneficio dalla protezione dalla presenza questa presenza colossale di questi altri animali e poi hanno delle personalità molto sia individuali sia di specie molto particolari per esempio il maiale è straordinariamente intelligente intraprendente e impavido per cui si avvicina anche ai cavalli per cercare di prendere un boccone piuttosto che direi che è un universo intero sta ad osservare come interagiscono tra loro gli animali in cattività guarda quello che posso dirti che per questa esperienza è anche un'esperienza profonda come quotidiana e stabiliscono una certa empatia inevitabilmente per cui pensare per cui mi sembra evidente scontato è ovvio che degli animali in cattività come noi in cattività siamo sofferenti si aggressivi sofferenti e non possiamo certo e non abbiamo modo di esprimerci quello che posso vedere ecco per esempio di questi gli animali che sono arrivati qui dopo una vita diciamo a servizio al lavoro che sono più degli altri sono i cavalli che il mondo dei cavalli è un mondo molto io lo conoscevo molto poco continuo a conoscerlo molto poco in realtà però sono creature che hanno passato una vita intera a servizio dell'essere umano e quindi per esempio per loro potersi affidare alla natura potersi affidare agli elementi è un percorso non è però vedi che c'è una quiete si crea questo senso senti hai questa percezione di questo senso di quiete di serenità questo è molto evidente in tutte le specie questo si infatti si quindi una differenza abissale poi naturalmente si esprimono le individualità che naturalmente ci sono poi vedi che certi stereotipi per esempio il fatto che la gallina non sia particolarmente brillante non è affatto vero cioè si osservano dei fenomeni che magari non sono neanche classificati per esempio io ho assistito alla morte di una gallina e i due diciamo morte naturale non da predazione forse un infarto comunque qualcosa morta nel pollaio e il gallo e la gallina rimasta sono stati sono stati accanto al corpo per ore e ore io anche lì ho osservato e non ho voluto togliere il corpo ho lasciato il corpo e sono stati il gallo teneva gli occhi chiusi e è stato in silenzio ore e ore con questa gallina morta per esempio ed è un fenomeno che noi non possiamo vedere in nessun modo anche quando chiedi quanto vive una gallina quanto vive una gallina di queste razze io ho chiesto questo nemico ma quanto vive nessuno lo sa perché ovviamente vengono insomma muoiono prima perché è un altro elemento molto anche un po' struggente volendo che naturalmente sono programmati geneticamente anche per vivere per esempio i maiali sono programmati geneticamente per ingrassare per mangiare pochissimo e ingrassare tantissimo e quindi la vita del maiale mi hanno detto abbastanza subito dipende da cioè muoiono giovani perché a un certo punto le articolazioni non li reggono più perché non sono fatti per invecchiare non hanno infatti c'era questo libro di un artista americana che si intitola Il diritto di invecchiare che ha fatto questa serie di fotografie a questi animali tipicamente appunto sfruttati agli esseri umani vecchi per cui c'era queste foto di un maiale vecchio però nessuno sa quanto possono vivere perché non è previsto ecco così come appunto in certi casi anche i cavalli piuttosto che nel momento in cui cedono i muscoli non so quindi un esperimento un po' in una terra incognita in un certo senso di sicuro non sarà l'unico perché uno non è mai però sicuramente cioè osservo dei fenomeni che sono molto sorprendenti rispetto a quello che uno pensa di questi animali e forse un'altra cosa che posso dire rapidamente poi se ci sono altri vi rilascio la parola è un po' la come dire anche mi fa un po' sorridere in certi casi la questa ossessione di vedere quanto sono intelligenti no misurare questa intelligenza chi è più intelligente fare il test di intelligenza sai tipicamente il delfino il maiale il cane allora quelli più intelligenti come se hanno una gerarchia sono un po' più sai degni di rispetto quelli meno intelligenti e in realtà se vivi così a contatto con questi che poi appunto è più più facile perché c'è un rapporto c'è un ponte sono domestici nella ti rendi conto che l'intelligenza per come la possiamo misurare noi è molto naturalmente appunto di no la storia come misuri cosa misuri numero uno e numero due in realtà hanno un mondo intero c'è un mondo intero hanno una un'ampiezza di hanno delle vite vaste dal punto di vista emotivo dal punto di vista delle relazioni dal punto di vista quindi questa ossessione di vedere che chi è più intelligente fa un po' ridere e andiamo tutti nella stessa abbiamo tutti una stessa come l'altra sensazione un po' che abbiamo tutti una stessa desiderio di andare verso una sorta di pienezza dell'essere di esprimere appieno le nostre la nostra potenzialità il nostro chi è umano la propria umanità chi è maiala la propria maialinità e non è diverso e quindi non si vede perché cioè come se questa gerarchia che noi abbiamo deciso che c'è diventa quasi un po' sorridere nel stare con loro poi prego se qualcun altro un'altra domanda se non c'è nessun altro una serie di domande vai vai no l'altra cosa che mi interessava era se avevi potuto notare per esempio delle ritualità tra di loro che potessero essere dei messaggi anche del tipo stammi lontano stammi vicino oppure ho bisogno di di aiuto o perché tra le specie tra gli animali della stessa specie ci sono dei rituali proprio di anche di avvertimento rispetto all'avvicinamento allora mi chiedevo se vista diciamo questo panorama diciamo molto privilegiato che tu hai avevi potuto notare anche come dire è come se fossero popoli diversi a parlarsi sì sicuramente così poi c'è un po' una sensazione di qualcuno quando ha bisogno cerca viene a cercare aiuto da me qualcun altro per esempio le galline sono galline che vengono da questo allevamento da questo luogo e hanno un allenamento alla paura dell'essere umano poi sono prede più fragili per cui molto difficile per me avere un rapporto tendenzialmente sia lontano non riesco a toccare per esempio mi raccontano ci sono persone che mi dicono ma io ho le galline perché ovviamente io dico questo ma tante persone in cascina poi hanno gli animali e magari appunto fanno la carezza una gallina e quindi so di altre situazioni in cui le galline sono animali che ti saltano in braccio invece le mie qui proprio perché sono allenate alla paura difficilmente le riesci a avvicinare per cui per esempio quando bisogna curarne qualcuno è un po' più complicato perché magari subito si spaventano però nel momento in cui poi capiscono perché poi c'è anche questo passaggio nel momento in cui capiscono che in realtà sei lì per aiutarle per curarle si fanno curare altri animali invece sono magari addirittura vengono a chiedermi aiuto se hanno bisogno tipicamente il cavallo per esempio si avvicina se ha dei problemi e poi sì ed è una domanda interessante perché dipende anche molto è abbastanza contingente come si relazionano con me delle volte sono la guastafeste perché magari vogliono finire di fare una cosa delle volte invece il contrario diciamo che quello che posso ecco forse quello che posso dirti che nei momenti ce ne sono vi immaginate sul gran numero e l'età avanzata eccetera ci sono dei momenti stati anche dei momenti drammatici magari di situazioni in quei momenti lì si affidano e questo si lascia stavo mettendo via le cose poi ti devo di non collegare verso le otto e mezza ma sì qui c'è io ho un po' un'altra cosa forse rispetto a questo scusa che mi viene in mente intanto se qualcun altro è il fatto che mi accorgo che per gli ospiti temporanei che quindi hanno abitudine a convivere con questi animali liberi non tutti insomma però c'è una tendenza abbastanza generale di noi umani a essere abituati a essere padroni della scena padroni del luogo per cui camminiamo questa sensazione appunto io ormai facendo questa vita strana lo vedo per cui tipicamente chi arriva e passa per esempio nel cortile piuttosto che ci sono altri animali magari che stanno facendo fatti tendenzialmente passa in modo del tutto inconsapevole cioè nel momento in cui passa quella persona tutti gli altri si devono scostare ed è inconscio cioè non è un per cui non c'è non c'è questa sensazione di dire c'è quello lì io continuamente no perché ormai sono in questa specie di vita strana mi adatto no per cui non è mia la scena la scena è condivisa invece tipicamente mi accorgo che chi arriva da fuori forse siamo tanto abituati talmente abituati a dominare e talmente abituati che tutti scappano tutti sempre tutti scappano da noi e quindi noi tendenzialmente non dobbiamo scambiare strada no abbiamo questo atteggiamento per cui ogni tanto io mi permetto così con chi è più con chi sono più in confidenza magari di far notare che non ha senso pensare che devi spaventare qualcuno solo perché devi passare magari passi dall'altra parte però vedo sempre qualche volta appunto facce stranite come dire ma come passano dall'altra parte sì ci sono loro tranquilli non stare a disturbare passiamo da c'era la storia di un signore meraviglioso che conviveva con gli orsi che si chiamava Charles Russell che raccontava di una volta in cui non aveva lasciato passare un orso era proprio un esempio di questo tipo di pratica con queste creature selvatiche e poi questa mancanza insomma l'orso s'era offeso aveva avuto un momento di rischio piuttosto rischioso però raccontava proprio di questo istinto che lui dice era ancora un po' indietro rispetto a sto percorso un po' ingenio quindi sono partito con questo senso di perché noi alla fine dominiamo ce l'abbiamo dentro posso fare una domanda prego non ti vedo ma ti sento sì sono Riccardo no volevo sapere se per caso hai osservato questa cosa che a me sembra di osservare cioè nella relazione con l'altra specie io lo sperimento con i miei animali domestici che girano in casa e cioè che noi abbiamo la tendenza a umanizzarla prima per dire si parlava guarda quanto intelligente eccetera ovviamente il criterio dell'intelligenza della stupidità è un uomo quindi oppure noi abbiamo una relazione con l'altro essere che però diciamo è sbilanciato diciamo il centro più o meno siamo sempre noi e per cui magari tu interpreti una certa manifestazione di quest'altro essere in un senso che è o antropomorfo o umanizzato eccetera e poi secondo me l'aspetto più interessante può essere la sorpresa quando ti accorgi che tu non hai proprio capito niente cioè che in una relazione bisogna accettare anche l'altro e cercare di capirlo cioè io certe volte vedo degli comportamenti e cerco di interpretarli anche in un senso cioè uno guarda il gatto dice sei triste non so invece magari sono tutte delle seghe mentali che ti fai tu nella tua testa di essere umano e quindi penso che sia una cosa che col tempo si costruisce se uno cerca di avere una relazione autentica come ce l'hai con le persone anche con altri altri esseri viventi di altre specie quindi mi chiedevo ci sono capitate delle sorprese di questo genere sì 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 grazie alla domanda sicuramente una delle come dire dei nodi o comunque vi dicevo prima queste contraddizioni no in un certo senso una convivenza ma come dici giustamente tu poi sotto sotto in realtà decido io no un po' alla fine sotto sotto dove stanno quando vanno vanno vengono appunto dove faccio le casette cioè non è che siamo tutti nel bosco a pari quindi c'è un senso da un lato di come dire di una certa contraddizione e io questo mettere questa posizione è un più mettersi a servizio di da un lato e poi questa cosa del non interpretare eccetera da un lato come dici giustamente tu lo facciamo anche con le persone quindi un allenamento all'ascolto dell'altro c'è una facilitazione anche rispetto agli umani perché siamo sono molto diversi quindi ci mettono meno in io noto anche perché poi ho anche dei periodi in cui vedo pochissimi umani quando arriva un umano noto che c'è una certa fatica in più con l'umano perché l'umano sei tu ti tocca di più da vicino quindi è un po' più facile prendere una certa distanza e riuscire a non proiettare appunto queste emozioni magari vede magari uno è triste pensa che l'altro è triste queste cose che umane molto umane che succedono tra noi della stessa specie in modo spesso molto difficile da controllare da controllare nel senso di avere consapevolezza invece con questi che sono diversi è un po' più facile le sorprese una delle più grandi se vogliamo è coi cavalli io appunto non ho mai avuto cavalli non ho mai neanche avuto particolari esperienze non cavalco per esempio quindi sono partita da zero e avevo questo senso anche di di fascinazione di ammirazione ma anche un po' un senso di mitezza di non voler essere con questo senso che questi poveretti erano stati comandati tutta la vita per cui io avevo questo atteggiamento così di mitezza di osservazione eccetera poi insomma un paio di volte in situazioni diverse mi sono accorta che questi mi passeranno sopra più o meno anche letteralmente caso ho voluto che una vicina qui di di Cascina insomma non troppo lontana mi ha parlato di un metodo di per conoscere il linguaggio incontrare conoscere il linguaggio dei cavalli che è un metodo di un certo italo-americano che si chiama parelli che è un metodo per sostanzialmente invece di comandare da produttore e in qualche modo entrare in relazione e diventare capobranco che la storia numero uno è giustamente a un certo punto qualcuno ha detto sì ma tu non puoi non essere capobranco perché qui se succede qualcosa tu devi poter fare agire prendere anche perché sono appunto creature potenti grandi per chiunque altro tra l'altro per proteggere chiunque altro sia lì eccetera eccetera e quindi ho fatto questa piccola esperienza ho fatto un anno di questo corso con una persona che è venuta qui a lavorare con me con questi miei cavalli scoprendo delle cose straordinarie per esempio il fatto che noi come primati scimmie primati abbiamo col pollice opponibile per manifestare le nostre faccende tendenzialmente abbiamo l'istinto a tirare quindi noi con questi cavalli io prima cosa li leghi poi li tiro cerchi di tirare naturalmente hanno una massa pazzesca invece loro tra loro si spingono non si tirano quindi per esempio una cosa molto semplice è passare dal tirarli allo spingerli e vince chi si sposta perde perché ovviamente ci sono delle gerarchie non abbiamo parlato di questo ecco ma all'interno di queste famiglie sono dei branche quindi ci sono delle gerarchie e io sono parte del branco volente o nolente quindi se mi trovo al fondo è un problema e vince chi spinge l'altro un po' tra le varie messaggi per cui uno degli insegnamenti è stato riuscire a mantenere una fermezza un'autorevolezza che non è essere autoritario anche qui con gli umani serve un po' per tutto diciamo ma avere una postura del corpo un modo di muoversi che è autorevole per cui non si sposta per esempio non arretra non sono delle piccoli sono moltissimi dettagli adesso non vi sto a fare tutta la storia però per dirvi io per esempio ho fatto questo passaggio mentre prima ci mette all'inizio non mi ricordo che andare a recuperarli ci mettevo una vita perché loro non volevano tornare insomma decidevano loro un po' dopo questa esperienza più o meno misteriosamente in realtà io arrivo in un posto e loro mi vengono incontro per esempio e una delle cose poi alla fine questo insegnante mi diceva un po' sorridendo che il capobranco nei branchi dei cavalli è tipicamente una femmina sono le femmine e il branco prende il carattere del capobranco quindi se il capobranco emite il branco emite ma è tutta un'altra storia rispetto a essere passino a fare per cui sì gli equivoci sono tantissimi per esempio i maiali percepiscono gran parte della loro percezione attraverso l'olfatto la vista quasi non conta per cui poi quando uno impara quello è come se piano piano in questo continuo a vivere insieme a forza di sbagliare piano piano per approssimazioni impariamo a comunicare meglio ecco però sicuramente ci sono gli equivoci le proiezioni poi uno pensa di aver fatto bene in realtà ha fatto un errore ma no un po' come in tutti i rapporti peraltro però sì quindi ho per esempio quella storia della strada il maiale faceva la sua strada io volevo costruendolo quando un'altra poi ho capito che lui aveva la sua strada episodi cioè scusa volevi dire che pensavi inizialmente che il maiale volesse tornare a casa come volevi tu però che non sapesse trovare la strada avevo una presunzione così che lui facesse cioè che la sua strada fosse la stessa nella mia che quindi lui stesse facendo dei capricci come per non andare a casa cioè che questa sua insistenza non seguire dove io volevo che lui andasse fosse una resistenza passiva dire a sentire tardi dobbiamo andare a casa che poi è buio io tendenzialmente quando è buio mi assicuro che siano protetti appunto perché girano i lupi e mi sembrava che lui stia facendo un po' i capricci sostanzialmente in realtà poi a starlo un po' osservare lì per fortuna per esempio ho avuto un attimo così un barlume di consapevolezza in quel momento ho capito che ho sentito ecco lì per esempio la cosa che è stata che lui aveva un'intenzione precisa cioè non era e quindi ho detto vabbè vediamo cos'è cioè uno deve anche avere tempo prendersi tempo insomma è una follia rispetto al mondo contemporaneo perché vuol dire che tu poi hai tempo di perdere magari non so mezz'ora capire cosa diavolo sta facendo cosa vuol dire no però sicuramente sì è una domanda fondamentale sicuramente ci sono gli equivoci se posso inserirmi anch'io se non ci sono in questo momento altre domande tu hai avuto ormai tante esperienze di artisti che sono rimaste lì con te per perso scusa mia esperienza ti ho perso l'antimo esperienze di artisti che sono rimaste lì con te per molto tempo mi chiedevo se in che misura tu riesci a condividere queste tue esperienze personali con loro con qualcuno hai qualche episodio legato anche al modo di essere artisti di queste persone che stanno con te sì sicuramente sì diciamo che quello che accade che ho visto accadere che in questo lungo tempo e poi soprattutto negli ultimi anni in cui questa pratica mia è diventata più pregnante proprio è una pratica di ricerca insomma mia per cui è diventata più presente e le persone che sono qui un po' entrano in questo flusso anche per contagio perché mi vedono continuamente impegnata in quello o quell'altro con quella creatura piuttosto che un'altra e sì sicuramente rispondono a questa situazione qualcuno come avete visto prima appunto ha voluto rendere omaggio a un animale facendo questo usando questi creini per fare un ricamo e qualcuno come per esempio un artista che è in residenza adesso ha in qualche modo reagito a questa a questa situazione in cui si è trovata lavorando sulla parola eccomi e lei è una drammaturga scrive scrive per teatro ma fa anche un lavoro proprio sul linguaggio sull'autobiografia eccetera ed è ha fatto questo laboratorio qui in cui ha invitato una serie di persone diverse un medico un agricoltore poi c'ero io un attivista politica eccetera lavorare su questa parola eccomi con quest'idea di come questa immediatezza lei l'ha derivata da la radice ebraica i neni che nel Talmud è il creatore che chiama la creatura e la creatura che risponde si rende disponibile all'intenzione del creatore quindi risponde con questo eccomi sono qui e è stata una una sua così reazione a questa pratica nella quale ha voluto anche partecipare no e poi molte di queste pratiche sono anche molto come dire pulire la stalla c'è sotto una parte assolutamente fisica come dire che può sembrare molto meccanica e che in realtà è un ritual sono dei rituali che si ripetono quindi lei è entrata in queste ritualità e poi ha fatto questo lavoro quindi sì gli artisti si poi vedi anche chi ha più o meno sensibilità per esempio sono artisti che hanno una grandissima sensibilità verso le piante i miei due soci fondatori per esempio ne parliamo spesso Andrea a carattere la spagna che sono artisti meravigliosi che lavorano moltissimo su questo riposizionamento dell'umano in senso non gerarchico hanno una loro predisposizione naturale per le piante lavorano moltissimo accanto alle piante e per me invece come fosse ci sto lentamente arrivando a questa medesima attitudine verso le piante ma istintivamente vado verso l'anima e quindi per esempio loro con loro abbiamo delle conversazioni molto anche molto sì forti perché poi loro difendono sempre i diritti delle piante giustamente dicono insomma questi animali però poi lì la mi dico sì ragione piano piano cominciamo quindi e ci sono persone magari che non hanno nessuna sensibilità né agli uni né agli altri arrivano con una loro però stando qui tendenzialmente in qualche modo un po' posso dire che un po' scalda il cuore in generale cioè questa cura quotidiana questa così partecipare a questo processo di cura degli animali delle piante del luogo anche quotidiana certo punto contagia animo per cui quello sì poi va a finire nel lavoro anche se provo a comparire un momento buonasera a tutti io sono Silvia purtroppo la mia possibilità di connettività è bassissima perché sono fuori casa per cui ho seguito a flash arrivando molto tardi perché non riuscivo a collegarmi però diciamo che questi pochi momenti mi hanno hai parlato di contagio e quindi hanno smosso delle cose degli interessi insomma ho sentito citare delle parole chiave che mi hanno smosso mi hanno un po' contagiata però mi mancano alcune notizie tecniche proprio perché ho seguito proprio un pezzetto piccolo quindi se possibile vi riporto su aspetti molto banali e chiedo ad Alice se puoi dirmi dove sei cioè dov'è questo spazio e poi senza essere artisti o altro c'è la possibilità di entrare in contatto con questa realtà a livelli diversi che poi saranno stabiliti da qualcuno cioè da chi ci vive da chi la porta avanti la domanda pratica siamo in Alta Langa sul Piemonte più vicino alla Liguria diciamo verso la Liguria venire a pian piccolo diciamo che tendenzialmente le persone che che vengono qui in residenza stare qui insomma vengono con uno scopo diciamo con un lavoro con un tendenzialmente vengono attraverso appunto a fare dei workshop a fare delle residenze quindi per esempio ci sono dei workshop ogni tanto adesso ultimamente in poche non ci sono anche perché c'è stato questo grande intervallo della pandemia però abbiamo anche offerto dei workshop aperti al pubblico diciamo di varia natura appunto forse non so se è ricollegata a un certo punto c'era un'immagine nel workshop di canto nella natura io stessa conduco ho condotto dei workshop di fotografia in quel caso lì sono aperti a chi vuole venire a chi è interessato e per il resto diciamo che tendenzialmente facciamo questa ospitalità legata a progetti finanziati quindi finanziamenti sono sempre un po' pubblici un po' privati in fondazioni bancarie regione Piemonte per cui non abbiamo cioè anche se ufficialmente è un'azienda agricola agriturismo eccetera abbiamo queste però non è una struttura ricettiva in senso classico diciamo grazie avevo anch'io una domanda scusate era proprio relativa un po' agli aspetti anche organizzativi tu prima parlavi di una sorta di comunità con le persone che che vengono lì con questi artisti e volevo capire come proprio dal punto di vista pratico l'organizzazione come come vi autogestite se vi autogestite come dire gli aspetti della vita quotidiana insomma no la preparazione del cibo queste cose qua come come l'organizzazione e se e qual è la relazione che che si stabilisce insomma tra le persone se ci sono stati problemi o se hai avuto invece una insomma se positiva anche la relazione di convivenza con chi viene lì a fare queste esperienze dunque la relazione positiva direi assolutamente con le persone che vengono qui a fare considera anche che gran parte è invito cioè queste residenze di lungo periodo di questi artisti e ricercatori che quindi sono uno o due l'anno per un anno intero vanno e vengono sono invito quindi sono persone che in un modo in un altro conosciamo diciamo che la sorpresa c'è sempre perché poi però è un po' ridotta ecco non abbiamo ancora fatto un passo non è detto che non succeda insomma di fare una chiamata un open call insomma una chiamata aperta per una selezione di quel tipo invece i laboratori quelli in cui arrivano per esempio questi ricercatori non è invito mai a candidatura le sorprese sono sempre positive devo dire che il luogo il luogo la situazione è molto a prescindere da da noi da me è molto forte è un luogo questo questo fatto che è isolato immerso nella natura questa ha una cifra ha un carattere ha una grande personalità ecco e tendenzialmente agisce in modo positivo magari magari attraversa qualcuno attraversa anche dei momenti un po' faticosi non è che è sempre tutto però positivo dal punto di vista organizzativo all'inizio ho avuto una fase iniziale in cui c'era uno staff diciamo fisto permanente che conviveva qui e questo invece è stato faticoso difficile perché un po' perché c'è poca poca privacy e quindi su una famiglia che stava qui insomma era complicata quella convivenza con magari anche proprio modi di vivere molto diversi perché chi era qui un po' come staff esterno non condivideva tanto la visione superata questa prima fase invece ho mollato gli ormai di un po' io all'inizio era anche molto più un po' avevo un'idea di mantenere un po' la vita precedente che era una vita più urbana in cui magari venivo qui andavo veniva avevo questa idea di qualcuno che potesse gestire questo luogo e invece poi ho capito che era proprio non era la strada giusta quindi in qualche modo mollato gli ormeggi nel senso che sono venuta a stare qui stabilmente e ho rinunciato ad avere uno staff per me quindi vivo qui da sola fondamentalmente con degli aiuti saltuari adesso per esempio ci sono qui due studentesse che stanno facendo uno stage americane che fanno scienze ambientali che stanno qui un mese e mezzo per esempio a imparare offrire lavoro in cambio di ospitalità quindi una modalità diversa e rispetto per esempio alla preparazione del cibo eccetera a seconda delle situazioni chiedo aiuto chiediamo un aiuto esterno quindi per esempio questo lavoratore dicevo prima di quest'artista d'armaturga eccetera in quel caso lì si sono autogestite la cucina cioè la cucina al preparare il cibo era parte del lavoro quindi in alcuni casi c'è una cucina che è quella che avete intravisto all'inizio che viene resa disponibile e in certi altri casi invece ho chiamato per esempio un workshop questo di quel progetto scientifico di ricerca scientifica abbiamo chiamato una ragazza che è venuta a cucinare per quella quindi ci sono naturalmente lì deve avere dei fondi insomma devono tornare i conti che non è mai evidente però comunque sono situazioni temporanee in cui magari in quel caso lì è venuta questa ragazza a cucinare ha preso in mano nell'ospitalità per cui è flessibile è una modalità flessibile in cui io per adesso mi trovo molto bene perché un po' dei costi fissi molto inferiori dato insomma sarebbe difficile poter mantenere la struttura eccetera e però come diceva Elena vuol dire un impegno molto grande da parte mia che sono poi quella che è sempre qui segue un po' tutto da tutte queste creature non umane puoi seguire anche gli umani impegnati per cui sì sono un po' strano della didattica hai delle esperienze delle prospettive perché hai sottolineato abbastanza l'aspetto della ricerca però oltre alla ricerca relazionale c'è anche la didattica relazionale quindi hai voglia di dire sì l'aspetto della formazione sicuramente è molto cioè mi interessa molto è molto per adesso abbiamo fatto delle esperienze saltuari abbiamo ospitato qualche laboratorio abbiamo ospitato un laboratorio di scienza della formazione con Andrea Caretto Marco Tonom di questi un laboratorio residenziale con questi studenti è stato molto positiva l'esperienza abbiamo queste piccole esperienze di workshop che abbiamo potuto offrire ad ampio spettro ecco non a studenti in particolare e poi abbiamo questa piccola parte di formazione che è inserita dentro la residenza di ricerca degli artisti in cui gli artisti comunque ogni volta offrono un laboratorio per studenti abbiamo questa accordo convenzione con il Politecnico per cui sono studenti di architettura che venivano a fare questa esperienza formativa residenziale e poi un'altra invece esperienza di cui avete visto qualche immagine abbiamo questo accordo con la scuola nell'infanzia di questo paesino qui accanto che è Levice e quindi offriamo dentro questo programma ci sono sempre questi due appuntamenti che sono stati un po' interrotti dal Covid ma adesso riprendiamo uno sul territorio e uno con però sono delle miniature ecco sarebbe sicuramente interessante fare delle esperienze un po' più strutturate per un punto se vuoi anche questo laboratorio che offriamo adesso questi ricercatori questo di cui vi accennavo che ha a che fare con l'incontro col suolo la relazione col suolo ha un aspetto formativo diciamo un lavoro che facciano con i ricercatori già in esercizio quindi però sicuramente c'è un aspetto educativo formativo sotto invece io volevo chiederti con la scuola materna che tipo di incontri fate cioè come contenuti come allora è molto divertente è bello il fatto che ogni artista poi declina l'incontro secondo la propria possibilità il proprio carattere il proprio lavoro per cui c'è chi lavora più appunto sul suono per esempio avete intravisto questi bimbi questi nastri c'erano dei nostri appesi c'era quest'artista del suono che ha proposto tutto un lavoro di consapevolezza dell'ascolto del suono della natura invece un altro ha lavorato con la scultura il disegno sono tra quattro incontri forse anche un po' di più di solito verso primavera estate si fanno vengono qui i bimbi vengono portati qui dalle maestre abbiamo fatto un'esperienza molto bella con Maurizio Cilli che era il nostro primo artista in residenza che aveva fatto lavorare questi bimbi sul sul selvatico ognuno aveva scelto un suo animale totemico un animale che senza il matico che sentiva più vicino poi lui con una sua amica una sarta un artista a sua volta aveva ha realizzato questi costumi meravigliosi ognuno col suo animale diciamo tutto fatto con questi scarti di tessuti hanno un nome che adesso non mi ricordo non mi viene in mente ma insomma sono gli scarti dei tessuti non usano insomma quello che resta e poi questi bimbi hanno fatto questa lui aveva fatto come restituzione finale ha lasciato questa grande pietra che avete intravisto e questa inaugurazione di questa pietra era stato un rituale una camminata collettiva anche con i nostri animali per arrivare a questa pietra con tutta la comunità e questi bimbi avevano avuto una parte performativa in questo rituale di inaugurazione di questa pietra per cui qui avevano indossato questi costumi lavorato su questi suoni erano venute in quell'occasione a lavorare sui suoni con loro due artiste esterne invitate da lui con cui avevamo già collaborato e quindi si è polimorfo diciamo a seconda dell'artista poi i bambini lavorano in modo diverso qui adesso sono rimasti questi costumini bellissimi che vorremmo poter utilizzare lasciarle la spalmata adesso vediamo come piccolini bellissimi vabbè visto che non c'è nessuno ti faccio quest'altra domanda mi chiedevo la genesi di questo progetto cioè come vi è venuto in mente e come si è trasformato nel tempo e adesso quali obiettivi vi state dando come la genesi è una storia molto personale nel senso che è un po' un mio sogno io ho una formazione ibrida di partenza perché sono una gene fisica teorica scienziata diciamo poi sono passata alla filosofia della scienza quindi ho una vita un lavoro diciamo un pezzo di vita in ricerca accademica anche se mai strutturata però sempre un po' in progetti di ricerca eccetera e poi ho una formazione come artista visiva e ho questa doppia anima quindi da un lato c'era questo mio desiderio di trovare un posto in cui far confluire questa doppia che non riuscivo intanto a integrarlo è come se avessi avuto un'intuizione di poter offrire questa competenza questa mia e in qualche modo integrarla in un luogo poi la possibilità naturalmente di fare un investimento iniziale la possibilità economica di poterlo fare io personalmente e quindi è nato un po' da questa intuizione di qualcosa che poteva essere per me una possibilità ecco all'inizio me lo immaginavo l'ho sempre immaginato come un progetto da condividere però non potevo immaginare in nessun modo che potesse assumere questo carattere così radicale è diventato io stessa dico radicale poi per me non è assolutamente radicale perché non lo vivo così però se me stessa in passato avrebbe detto ma come quindi è un luogo che mi sta portando verso un luogo progetto che mi sta portando verso dei modi di essere miei che non pensavo di poter e dall'inizio ho voluto condividerlo nella sua fondazione con degli artisti perché in qualche modo per me l'arte poi alla fine è un veicolo principale per poter non so è un mio slancio nello star al mondo ecco è quello che mi quindi in qualche modo anche lì è stato istintivo ho avuto la possibilità di invitare questo primo progetto è stato anche lì un investimento personale iniziale di invitare queste persone a lavorare per poter appoggiare questo progetto su un gruppo con cui aver condiviso già un'esperienza grande e poi da lì diciamo invece è iniziata una seconda fase in cui questo gruppo si è fondato si è radicato e abbiamo iniziato a poter invece chiedere finanziamenti ottenere finanziamenti esterni per cui adesso siamo pronto a una realtà che piano piano si autosostiene con queste però ecco è la cosa affascinante ecco qualcuno forse che questa una mia amica che insomma aveva scritto un testo a un certo punto su questo progetto su questo luogo che l'aveva toccata aveva detto si può sposare qualcuno sposa delle persone qualcuno sposa una causa e qualcuno sposa un luogo io non mi sono sposa non si sa mai nella vita magari mi sposa anche con degli umani un umano non lo so però diciamo sicuramente è un sodalizio profondo che io ho con questo luogo che mi che ospita molto più grande di me naturalmente che ospita non solo me per cui ecco assume delle non era assolutamente prevedibile tutto questo per sintetizzare la risposta alla domanda non era assolutamente prevedibile e ho una modalità di vivere questo il più possibile un'apertura quello che vi dicevo la capacità di rispondere come se io rispondo a questa attitudine non programma ovviamente un post programma perché si deve fare i finanziamenti bandi però mantenere una certa apertura per vedere cosa il luogo il progetto portano e qui essere pronte a rispondere ecco più più questa e poi ecco forse il sistema diciamo il generale radicale nel senso che tutto rema contro ecco per esempio per avere le caratteristiche per poter ospitare dalle persone bisogna fare tutta una serie di cose a un certo punto mi sono trovata essere agriturismo agriturismo azienda agricola questo tendenzialmente interpretato non solo così come visione ma anche praticamente l'agriturismo azienda agricola deve stare dentro delle scatole delle burocrazie deve farci per cui il fatto di poterlo spostare aprire trasformarlo c'è anche tutto il lavoro di capire qual è la struttura giuridica giusta questa doppia adesso c'è questa fondazione azienda agricola capire come possono parlarsi tra loro in modo che diventi sempre più integrato il fatto che l'azienda agricola non sia produttiva nel senso tradizionale perché vogliamo anche lì un dialogo con i viventi per cui un reinterpretando la radice del gesto agricolo quindi una collaborazione con le piante per cui difficilmente poi sei produttivo in senso di mercato quindi in quel senso è più centro di ricerca però tutto questo ve lo dico un po' come sono cose già fatte ma è un lavorio anche di potersi definire di capire cosa uno quindi si è un work in progress di capire Enzo forse è il microfono spento Alice scusami puoi togliere il video condividere lo schermo che si chiudiamo la diretta su Facebook stop share ecco va bene va bene io ringrazio Alice e tutti per aver seguito Alice per averci raccontato questa esperienza e tutti per aver seguito fino a questo momento queste riflessioni in realtà poi convergono anche in alcuni momenti hanno anche delle ricadute poi come posso dire non rimangono così legate a questo solo evento vengono poi raccolti tutti i nostri interventi e trovano poi confluenze quando non ci si aspetta magari che ci siano quando si ragiona anche di tecnologie o dei limiti di questo le questioni dell'equilibrio e chiamiamola così della biofilia che mi sembra un termine adatto sono molto molto attuali perché ce ne dica se non ci sono altre richieste io saluterei intanto gli amici di Facebook e quindi chiudiamo quindi e